Ieri sera i carabinieri della stazione di Campania hanno eseguito due misure di custodia cautelare in carcere, ad un 29enne e un 21enne, entrambi pregiudicati del posto e già sottoposti a misura di prevenzione. Gli stessi sono ritenuti responsabili di un furto in abitazione perpetrato a Campania nel pomeriggio del 22 maggio durante l'assenza del proprietario. Le rapide indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare, grazie anche ai sistemi di videosorveglianza, i due che sono ora nel carcere di Forni in attesa del giudizio del GIP.